Quindi siamo giunti a questo, mi ricordo ancora le urla, il dolore, mi stavo divertendo con due dei miei migliori amici, quando improvvisamente ho visto i mostri responsabili di questo terribile atto e ho capito di dover lavorare sodo per sconfiggere quei nemici. Mi sono allenato per essere più forte, migliore, più veloce, mi sono anche fatto alcuni tatuaggi carini e ora sono pronto per distruggerti! Hai finito? Ho un appuntamento con la mia ragazza nella sua vasca da bagno, quindi se vuoi scusare... Dai! Resterai qui a prendere pugni in faccia da me e non pensare di potermi soffiare via perché non accadrà! Sì che posso! Grato per avermi riportato a riva, amico fidato! Dov'è? Dov'è si trova quell'uomo d'acciaio? Non servi tu faccia di pesce? Superman sta combattendo una nuova minaccia ora, il suo... Doomseye! Doomseye! In nome di Poseidone! Amici dell'oceano, scelgo voi per distruggere questa mostruosità! Timothy! Gregory! Tim! No, non anche tu! Dimmi... Tua madre non si chiama Marta, vero? Ancora tu! Devi essere fermato! Oh mio Dio! Vuoi ancora uccidere lui? Abbiamo problemi più grandi ora! Ok, bene! Avengers... Uni! Vuol dire... Facciamolo! È stato facile! Splash! 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 Ora il mio sito è tutto bagnato! Splash! Compatti bene questa battaglia! Splash! Splash! Superman! Ho trovato la lancia di Kriptonite che avevo lanciato via! Oh! Ho un impressionante abilitare a lanciare i lance! Dai qua! Lasciami aiutare! Ah! Ops! Perché? L'ho deluso in vita! Non lo deluderò nella morte! Deluso? Lo hai ucciso! Possiamo tenere la cosa tra noi? Ehi! Dove stai andando? A convocare gli altri! Tu puoi rimanere qui, grazie! Ma posso aiutare? Hai fatto abbastanza! Oh dai! Posso parlare con le creature del mare! Squali e roba! È una figata! Grazie, ma preferirei avere il ragazzo che corre veramente veloce! Ma posso nuotare molto veloce! Grazie, ma preferirei avere il ragazzo che corre! Grazie, ma preferirei avere il ragazzo che corre! Grazie, ma preferirei avere il ragazzo che corre!